Francesco Panzieri, un ragazzo pescherese che ce l'ha fatta coronare il suo sogno. Da anni vive ad Hollywood e collabora con le più importanti major cinematografiche nel settore degli effetti speciali. Ha lavorato con Marvel, Disney, Warner Bros e ha da poco completato il suo progetto più importante, gli effetti visivi, nell'ultimo episodio di Indiana Jones. Lo considero un po' come il mio figlio preferito, se possiamo passare il termine, perché ho lavorato sul film per 11 mesi e sono stato capo del gruppo di Lucasfilm, del team di effetti visivi interno, a stretto contatto con James Mangold, il regista, con Andrew Whitehurst, il production supervisor per gli effetti visivi. Quindi ho avuto il mio team di 7 artisti e siamo stati praticamente il venditore con il secondo numero più alto di tagli consegnati per il montaggio finale. Francesco è stato ricevuto questa mattina a Palazzo di Città dal sindaco Carlo Masci in vista della manifestazione di Adricesta da Hollywood a Pescara, in programma lunedì 21 alle 17.30 alla sala consigliare, dove risponderà alle domande di circa 200 ragazzi del Centro di Diabetologia Regionale Pediatrica, studenti e allievi della Scuola Europea del Cinema. Credo che sia, oltre che un piacere, sia anche un dovere, perché anche io quando studiavo tanti anni fa all'Aquila ebbi persone nel mondo cinematografico che vennero a parlarci quando noi eravamo studenti. Erano persone americane e sono state proprio quelle persone che mi hanno dato l'incoraggiamento nel voler affrontare una carriera oltroceano. Ringrazio Carla Panzino che ha colto al volo questa occasione e ci ha proposto un'iniziativa all'interno della sala consigliare del Comune di Pescara per ospitare i bambini insieme a Francesco Panzieri, che è figlio della nostra terra, figlio della nostra Pescara, che ha conquistato Hollywood e soprattutto fa sognare grandi e bambini con i suoi spettacoli, con le sue iniziative, con la sua capacità di immaginare e di avere una visione che va oltre l'immaginazione. Quindi è bellissimo averlo qui. Abbiamo voluto targare come un incontro tra supereroi. Lui il grande mago degli effetti speciali dei supereroi più amati dai bambini con le loro rocambolesche avventure e noi abbiamo i supereroi del centro di diabetologia pediatrica che ogni giorno si danno da fare per affrontare al meglio i piccoli problemi che la vita li fa incontrare.